Non ci sono stacchi elettronici di regia, è tutto girato con tre Rvm, uno che registra quindi, allora moriva un papa dopo l'altro, Montini, poi Luciani, mi ha avvelenato o no insomma, un santa pace, ho avvelenato da loro signore Dio e poi voi tigua, fumate bianche con cine che mi sottorevano gli ampers, questa l'ho dovuta rubare in un giorno proprio a quattro Rvm e questo è il teatro in televisione.